ciao a tutti e bentornati in questo delicatissimo canale allora nell'ultimo riassuntone vi ho raccontato del vlog di davide con protagonista chiara che starnazzava tra le onde con il costume ben saldo tra le ciappette ora in questo video andiamo a riassumere il vlog di chiara con protagonista chiara il vlog del nostro fiorellino milanese parte con lei che cerca un po di fare la simpaticona facendo un pastrocchio di film e frasi di film per fortuna il siparetto dura poco perché perché tornano a scoprire le meraviglie di castiglioncello e qui felicità e meraviglia per ogni cosa anche per i bidoni della monnezza per le strade quindi di castiglioncello tra una chiacchiere l'altra feedback negativo per il primark di livorno che li costringe a tornare a quello di firenze quindi il ritorno a firenze è in programma però nel frattempo si ritorna in piscina breve riposino pomeridiano e capatina alla cona dice per comprare le lasagne sorgelate e chi può dirlo la chiara promette look più sofisticati trucco e parrucco e non possiamo non dire che la nostra chiaretta in questi giorni è letteralmente spumeggiante anzi oserei dire incontenibile ha addirittura ritirato fuori il costume con le teste di gatto nero al posto delle coppe il video è sul finire ma davide ha da fare un appunto lui sapeva che le sedie ieri non erano di legno ma di vimini ma sul momento non gli sovveniva il termine molto molto bene ora giusto il tempo che mi segno questa cosa nella lista di cui non mi frega un ca e si aprono le danze si andiamo a leggere cosa ne pensate voi di questo vlog siete pronti che avete detto no e chi se ne frega perché noi andiamo a leggere il primo commento scritto dalla nostra amica fiore rosa 31 che dice lo fa apposta a dire stile cuba sa che fa innervosire la cosa la penso anch'io liliana piacentini dice certo che vedere che parla mentre mangia e il cibo che gira tra i denti e l'apice del bon ton che dire e che gli vuoi dire liliana mia fm dice mamma mia che disagiati per fortuna che non si riproducono e abbiamo anche una new entry e cioè monica che dice non si parla con la bocca piena tu vuoi rispetto giustamente ma cerca di averlo per chi ti guarda fm ritorna con questo commento e scrive arriva il temporale e loro fanno il bagno due dementi laghetto mentre la nostra amica desi fancy channel 8476 scrive prima o poi dovrete tornare a casa ad affrontare la realtà dei problemi ma continuate pure a rilassarvi e passiamo velocemente al commento di bibi e bibò 8750 che dice per chi non ha avuto niente dalla vita solo povertà e miseria tutto è nuovo e tutto è bello poveri diavoli ed abbiamo anche un'altra new entry nella lista dei commentatori oriana zoccatelli 5997 scrive ma sempre a starnazzare come un oca deve essere spagnola l diamond 3 dice ma il toast fa parte del piano alimentare no il toast fa parte del piano che se lei mangia lui digiuna passiamo al commento di arillina che scrive io non avrei mai il coraggio di tingermi i capelli in hotel se gli sporcassi le cose con immenso piacere c'è anche un commento dell'amica gemma del nord 8614 che scrive stile cuba stile grecia e poi non ha manco il passaporto per raggiungere sti posti i sogni sono desideri di possibilità e dopo l'amica gemma c'è la super simon mazzotta 7925 che scrive ma non dovevi farti bella massimino invece preoccupato per la salute di chiara perché le scrive chiara sono un os in reparto medicina interna e ti devo dire che hai troppa patina bianca sulla lingua e vedo anche una certa secchezza delle mucose non è buon segno nelle tue condizioni dovresti fare analisi poi fai te giulia de marc 1532 dice da soli in un hotel vuoto e fatiscente non è che siete dentro una struttura abbandonata e allora non era un blog delle vacanze bensì un urbex silvia g1963 scrive mangiare e parlare con la bocca piena è proprio da vip poi stefano giuseppe francesco 4534 è la solita comitiva che commenta sempre dicono vabbè parlare con la bocca piena di toast masticato che schifo poi c'è devora 2728 che scrive siete a castiglioncello provincia di livorno non siamo a livorno andate al primark a campi bisenzio provincia di firenze siamo a firenze se non siete a livorno non siete neanche a firenze coerenza zero contorto e misterioso il discorso della nostra amica e passiamo al commento di siete da cim che scrive lui rimane in spiaggia con secchiello e palette mentre tabris k dice siamo quasi ad ottobre e cioè domani dov'è il fantomatico dentista domanda interessante mentre il nostro daniele xl scrive upgrade della stanza dennis è andato via e ci siamo spostati in una doppia bibi e bibò 8750 scrive che pena poveri barboni mentre giuliana fontana 6467 dice guadagnare grazie di insulti che tristezza mentre elo 37 u 298 dice ricordavo diversa lavana mentre ari p 9176 dice l'ha detto stile cuba non ho sentito ironizzando così sul fatto che chiara in questo vlog avrà ripetuto almeno 300 volte stile cuba stile cuba stile cuba e passiamo al commento di annalisa che dice quel divano stile seconda casa e quella bagnarola parcheggiata fanno stile cuba soprattutto lo scimmione e la bertuccia ricordano lavana mentre valentina marziali 5451 dice non ho capito una cosa che stile sofia addio dice l'unica cosa che vi invidio è la vostra autostima io avessi un viso e un corpo così brutto starei a casa quindi bravi mentre laura o o 8 e t dice zio pero che disagio fiore di pesco scrive mi sembra di notare un altro dente rotto nell'arcata inferiore a destra dello schermo questo commento risponde chiara in persona e col suo canale ufficiale dicendo no mi dispiace per te mi manca sempre solo un dente fiore di pesco però non getta la spugna e torna con un altro commento dicendo le mancano parecchi denti anche sotto tanto che le si è creato lo spazio fra i due incisivi inferiori mentre la nostra amica ilaria lungobardi v5h dice non hanno visto niente mai manco l'idroscalo liliana piacentini scrive quando esce di casa sembra una scappata di casa e francesca detta franca a per gli amici franca dice le labbra bianche stai bene all'utente fm proprio non va giù sta storia dello stile cuba perché scrive ma che cuba se non ci sei mai stata laura palmer direttamente da twin pigs scrive quel toast macinato in bocca in bella vista e chiede pure cosa ci sia da vergognarsi in quello che fanno a posto oriella beltrami dice cioè vanno a livorno e non vanno a vedere la terrazza mascagni ma primark sono a castiglioncello e stanno a mollo intorno c'è volgheri volterra boh che disagio di persona anche l'amica susanna selmi si è stufata di sto stile cuba perché scrive ma diciamolo che cavolo è lo stile cuba anni 50 proprio non lo so secondo me lo dice così tanto per provocare e basta ed è ritornato anche l'odontoiatra settembrino che scrive avete deciso di farvi cadere tutti i denti così da ottenere ancora più visual per l'abbruttimento l'amica jessy ci dà un consiglio perché dice bevete uno sciottino ogni volta che dice cuba e fu così che tutti imbrieghi sonia mazzorana scrive ma non c'è anima viva cioè questa cosa l'hanno fatta notare in tanti e cioè che ultimamente in ogni posto che che vanno e sono posti solitari con pochissime persone se non loro altra new entry tra i commentatori è principessa 8213 che scrive bellissima piscina rilassatevi ragazzi tinta top sento profumo di simona zucchi bene e si conclude la lunghissima carrellata dei vostri commenti sotto l'ultimo vlog della nostra chiara nazionale questo vuol dire che anche il mio riassunto è giunto al termine quindi non mi resta che augurarvi buona continuazione di serata invitarvi a guardare quello che sarà il mio prossimo riassuntone ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossip